Con Carlo Nando, il nostro DJ set, ovviamente un grande ringraziamento al nostro Gigi di Stagio che ci ha voluto fortemente per questa seconda serata. Safari Club, ci rivedremo presto, grazie a tutti, è stato un meraviglioso. Una beccia al nostro fotografo personale. Grande, sempre, evangelista. Ci rivediamo alla prossima, Chi Soea, un bacio a tutti, ci portiamo poi nel nostro cuore. Grazie alla nostra Napoli, si ritorna a casa. Grazie!